Comincia la stagione estiva, male tra parentesi, ed oltre alla pioggia, sulla testa degli esercenti del mare, si abbatte la scura dei controlli dell'ufficio del lavoro. Un blitz del Ministero del Lavoro tra Punta Marina e Maria di Ravenna, che ha riguardato 13 stabilimenti in collaborazione con l'Inps e i carabinieri provinciali. Dai dati emersi sarebbero venuti alla luce 14 lavoratori in nero, 9 bagni con manodopera irregolare, molte multe salate e qualche eccellente chiusura. Manodopera in nero, rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, gli ambiti sottoposti ad accertamenti. Ma gli operatori del mare, dai pareri da noi raccolti a telecamere spente, non sono affatto contenti per tutta una serie di motivazioni. Innanzitutto lamentano il fatto che questi controlli così pesanti siano stati effettuati molto molto presto, in anticio sulla vera partenza della stagione. In un momento, tra l'altro, davvero molto difficile per il lavoro al mare, viste le assenze dei turisti e dei bagnanti e soprattutto per il meteo inclemente. Inoltre, lamentano atteggiamenti troppo duri e inquisitori da parte di chi effettua i controlli e un intreccio di competenze burocratiche tra comune, corpo forestale, demanio statale, guardia costiera e altri enti che, al di là del rispettare o meno certe regole basilari, espone comunque le loro attività a multe o pene difficili da evitare. Difficili da evitare per via di una legislatura che ormai li fa letteralmente annegare nella burocrazia e in vincoli, a loro detta, davvero cervellotici. Tra tutte le difficoltà, gli operatori lamentano anche una certa incuria da parte del comune nella gestione degli stradelli e delle dune in relazione ad argomenti quali la sicurezza, come dimostrano gli accoltellamenti del sabato sera, e l'illuminazione. Primo weekend estivo, in pratica, sono già partiti i controlli a tappeto dell'Inps, del Ministero del Lavoro. Ci sono state un bel po' di multe perché sono stati riscontrati delle assunzioni in nero, delle assunzioni di minorenni. Però è anche vero che molti esercenti qui del litorale si lamentano di tanti disservizi. Qual è la vostra posizione come cooperativa Spiagge Ravennate? La nostra posizione è molto chiara. Noi siamo per i controlli, è giusto che i controlli vengano fatti, laddove c'è del lavoro nero è giusto che venga verbalizzato. Però il tutto non può comunque essere poi riassunto in un concetto popolare nel dire che gli stabilimenti balneari assumono il personale in nero e generalizzare questo principio, perché non è assolutamente così. C'è da dire questo, che è indubbio che questo weekend, non per trovare scusanti assolutamente, perché laddove c'è un lavoratore in nero di scusanti non ce n'è. Però questo weekend dava delle previsioni già da una settimana di brutto tempo. Per chi ha un'attività stagionale sa cosa vuol dire dover pianificare il personale. Quindi può succedere, come io ho parlato con diversi colleghi, gli ho chiesto ma come mai è successo questo, che il bel tempo poi ti porta all'improvviso a chiamare una, due, tre persone. Teniamo presente che sono stati controllati meno del 5% degli stabilimenti balneari del comune di Ravenna. Quindi non si possono fare percentuali che buttate là, danno un segnale negativo, dire il 70% di. Io penso che i dati vadano verificati a fine stagione, dove in modo chiaro, come è successo in tutti gli anni, si vede chiaramente che la categoria di balneari non è una categoria che ha la mente, i lavori in nero, l'evasione eccetera eccetera. Queste sono sciocchezze. Sicuramente a fine stagione i dati diranno quello che hanno sempre detto, che la nostra categoria rapportata a numero di attività, controlli fatti, paragonata ad altre tipologie di attività, rientra ampiamente in tutti i parametri. La cosa che noi chiediamo è questa. Ripeto, i controlli giusti che siano fatti sono doverosi, però che vengono fatti nel giusto metodo. In passato, non sempre, però in alcuni casi si sono creati situazioni fastidiosi in cui il controllo si è tramutato quasi in un blitz, come che invece di pensare che c'è una famiglia che gestisse uno strumento balneare, ci fosse un clan malavitoso. Questo non deve succedere. Il controllo deve essere fatto, noi diciamo, nel pieno rispetto dell'attività e di chi sta lavorando. Quello che chiediamo è questo, che non si crei un clima di terrore. E torno a dire, sono convinto che poi a fine stagione saremo in grado di dimostrare che i balneari non sono sicuramente i soggetti che alimentano i lavori in nero, anzi tutt'altro. Se noi pensiamo, forse vent'anni fa, quando il nostro mestiere era fatto come secondo lavoro, ci potevano essere situazioni di questo tipo. Ma oggi, negli ultimi 10 o 15 anni, che sono attività gestite da famiglie come primo reddito, queste sono sciocchezze, sono veramente sciocchezze. Ed è avvilente sentire anche dichiarazioni da parte di qualche esponente politico della mutua che sostiene che è giusto fare i controlli e questi veri, i controlli devono essere fatti. È giusto farli in spiaggia perché lì da sempre sappiamo che c'è del lavoro nero. Queste sono sciocchezze. Chi fa queste dichiarazioni lo fa perché è in mala fede o non conosce e non sa. Quindi invitiamo veramente a pensare prima di parlare. Poi ripeto, i controlli sono iniziati, dureranno tutta la stagione, com'è normale che sia, com'è giusto che sia. E sono convinto che a settembre i balneari dimostreranno quello che hanno sempre dimostrato. Per Ravenna Web TV, Joseph François.